Ho iniziato ad andare in Windsor fa otto anni e il consiglio che posso dare ai più piccoli è quello di inseguire le proprie passioni e comunque è uno sport che ti tiene a contatto con con la natura il mio punto di forza nel mio sport è la determinazione la cattiveria agonistica che mi viene in gara e cerco sempre infatti di recuperare fino all'ultimo in maniera tecnica sono le manovre il momento il campo più difficile che ho trovato è stato quello in Brasile a Rio perché lì si regata dentro una baia molto grande dove si ha della corrente entrante molto forte del vento che non si vede bene proprio ad occhio e può cambiare da un momento all'altro e non te l'aspetti Diciamo che non ho un film preferito però sono rimasta molto colpita tempo fa quando ho visto il film La vita è bella Per le olimpiadi ho la grande responsabilità di rappresentare l'Italia è una grande emozione e a prescindere da come andrà mi porterà dietro una grande esperienza e mi aiuterà per il prossimo quadriennio Grazie a tutti